Inoltre, se non hai voglia di salvare la tua reputazione e fare amicizia qui intorno, dovresti venire alla nostra festa di ritorno a casa, nel dormitorio stasera. Sembra fantastico, ci sarò. Quando sono entrato in dormitorio ho sentito dei singhiozzi provenire dai bagni. Ho bisogno di amici che saranno in grado di gestirlo quando dominerò l'industria della moda tra un paio di anni. Voglio una squadra di persone competenti su cui poter contare. Quindi uno studente di borsa di studio, senza background e talento distintivo come te. Non sono interessata. Non riuscivo a crederci. Sono stato davvero trattato in questo modo a causa della mia borsa di studio. Quanti studenti sono come Carolina? Quanti loro mi tratterebbero in questo modo a causa della mia borsa di studio? L'ora di pranzo era quasi finita, quindi ho controllato il mio programma per assicurarmi di sapere dove fossero le mie lezioni. Giusto per non finire in ritardo come l'ultima volta. La prossima lezione è in questa classe. Oh, siamo in anticipo. Quella che sembra una sala di riunioni, ma scusami, quella di prima era matematica. Ma su quella lavagna c'è scritto la roba di matematica e fisica. O greco antico. Ah, tanto ho la vaga impressione che Keller faccia caccare in entrambi. Ciao, Keller! Vuoi unirti a noi? Non avevo notato il piccolo gruppo di persone in fondo alla classe. Comunque mi piace perché gira con un cacciavite in mano, sembra pronta a uccidere qualcuno. È meravigliosa. O a smontare qualcosa. O a smontare qualcosa, però la vedo più ad uccidere qualcosa. Ciao! Cosa avete in mente, ragazzi? È solo una riunione settimanale del club di robotica. Abbiamo quasi finito, quindi potrai usare presto l'aula. Oh no, prendi il tuo tempo. Stavo solo esplorando. Ma se stai aspettando l'inizio della lezione, dillo. Perché? Perché queste cose senza senso? Bene! Quindi, ricordate, ragazzi, la competizione è tra due mesi. E Arlington non perde da quasi cinque anni. Io ce li vedo a fare le competizioni di robot, quelle tipo... Non so, forse voi siete giovani, voi ascoltatori, ascoltatrici, dolcette, passanti. Chiunque. Per i combattimenti tra robot. Sì, credo si vedevano. Era una figata pazzesca. Come si chiamavano? Le Robo War. Sì, Robo War. Facciamo del nostro meglio. I primi progetti sono previsti la prossima settimana. Iniziamo a costruirne in due. Va bene, ci vediamo venerdì. Il resto del gruppo è iniziato a lasciare la classe. Elle è rimasta in giro, annotando alcune cose su un blocco notes. Primo appuntamento dell'anno? Dai un'occhiata. Non ho mai visto qualcuno così entusiasta di iniziare la scuola. Ehi, mi piace imparare. Io amo ancora di più schiacciare la concorrenza. Oh, questo caratterino è un po' zundere. La competizione annuale di robotica è dietro l'angolo. E il team di Arlington parteciperà alla divisione delle scuole superiori. Sono così eccitata. Non vedo l'ora di iniziare a costruire. No, non voglio accoppiarmi con te. Vuoi capire? Ci piace il pesce. Davrille. Eh, ovvio. Cioè, scusami, che pensieri fai? Eh, sushi anche. Ci piace il pesce. Sushi, i calamari, i totani. Poi se spuglienta d'ascio è un'altra cosa. Quelli sono altri pesci. Altri mari. Altri mari? Puoi costruirmi un robot che possa fare i compiti al posto mio? Solo se mi paghi abbastanza. Non ha detto no. Quindi iniziamo a metter su dei soldi. Dimmi il tuo prezzo. Sfortunatamente non potrei farlo anche se volessi. Io confido in te. Ti c'è dai bei capelli. Esatto. Affinché un robot sia in grado di fare i compiti, mi richiederebbe di programmare un software per questo. E non sono la persona migliore per questo. Tegan lo è. Beh, qui ci basta fare una collaborazione. Esatto. Una partnership. Esatto. Quindi dovremmo pagare due persone, però si può fare. Però c'è da dire una cosa. Noi gli diamo l'idea. Loro la sviluppano. Noi ci danno il modello primario, diciamo. Il primo, la beta, la proviamo, c'è il tester. Quindi noi abbiamo qualcuno che fa i compiti. Esatto. Farà degli errori, ma tanto li facciamo di base. Esatto. Quindi sarà ancora più credibile. E loro dopo potranno vendere il modello iper super figo. Poi qualcuno li denuncerà perché è bari. Sostanzialmente hai venduto qualcosa per barare, ma... Però a quel punto avrai i soldi per pagarti gli avvocati. Esatto. In genere sono incaricata di configurare l'hardware qui nel gruppo. Faccio del mio meglio per convincerlo a unirsi al club per aiutare il team del software, ma si rifiuta sempre. Potremmo essere imbattibili con le sue capacità. Bene. Il nostro prossimo obiettivo è convincere Tegan a unirsi al club di robotica per aiutare Ellie. Così dopo noi avremo il robot per fare i compiti. O un microonde, cioè a me va bene anche quello. Oh, è un peccato. La quantità di talento in questa scuola mi stupisce ancora. Sì, vai tranquillo. Solo noi siamo dei cani. Ma quello non è colpa tua che è lui. È nostra, sostanzialmente. Sei nato dalle persone sbagliate. Comunque vorrei dire, però magari il team di software che ha è già molto buono, solo che Tegan è tipo un altro livello. Ma sì, cioè secondo me tutti quelli che incontriamo noi siamo proprio i cervelloni. Sì. C'è gli super, iper in tutte le categorie, mentre invece c'è il resto del corpo studentesco che mi auguro che esista, perché altrimenti siamo veramente 20 in totale, che sono persone normali. Cerca di non disperarti troppo. C'è sempre un modo per farla franca senza fare i compiti. Oh, interessante questa informazione. Io ce la vedo lei che tipo, oddio non ho fatti i compiti, e smonta la scrivania del professore che allenta solo le vite. Il professore si appoggia, si smonta la scrivania e dopo passi un'ora a capire che cosa è successo e i compiti. E come puoi esserne così sicura? Esperienza. Ma comunque il nostro secondo incontro da preparare, e l'ora di pronta è quasi finita. Volevo andare alla festa dei Raquel stasera, ma qualcosa mi dice che investirò tutto il mio tempo nei progetti del robot. Esatto, mi ero dimenticato la festa di Raquel. Ma non si parla d'altro, come hai fatto a dimenticarti? Dimenticato, la scena prima abbiamo parlato della festa. Eh, appunto. Cioè, ci ricordi a noi che è passata la settimana? Mi chiedo, chi andrà stasera? Ah, Raquel c'è. E lei è simpatica, quindi è già un posto avanti. Axel probabilmente. Sì, perché è un partaiolo. Un partaiolo. Sì, un party party yeah. Finché ti diverti. Esattamente. Quando ti scambio di battuti in questo modo fa schifo. Sembra quando nei messaggi non sai più cosa scrivere. A dopo, che è Loir? Dopo aver cercato in tutta la scuola, ho finito per incontrare praticamente tutti, tranne Axel. Ma se l'abbiamo incontrato stamattina a colazione, è già passato un giorno. No, no, voleva rincontrarlo dopo averlo incontrato dopo lezioni. Sospirai e ho battuto. Avrei davvero voluto parlargli di più. È stato davvero carino a parte sua mostrarmi la mia classe stamattina. La campanella stava per suonare. Ho cominciato a raccogliere le mie cose dal mio armadietto. Stavo per dirigermi verso la mia classe quando... Eccoti! E mo' che cazzo abbiamo fatto? Tadashi non puoi incazzarti con noi perché è da mezz'ora che decantiamo del tuo potere di pescivendolo. Mi voltai rapidamente e vedi Tadashi che afferrava Axel per la manica. E là, là! Quindi siamo in prima fila per una rissa! Tra due figoni! Oh ma cos'è? Ma io in questa scuola ci voglio andare, dov'è? Te lo immagini con i capelli spettinati? E non da pigiotto? E così mi distrai troppo. Cazzo è pigiotto sul serio. Oh amico, ed ero così vicino a superare la prima giornata senza vederti. Oddio ma è 5% anche Axel, oddio qua c'è concorrenza. Tadashi non sembra molto felice. Credimi, avrei fatto qualsiasi cosa per evitare di vederti in faccia se non fosse stata una necessità. Farei qualcosa per i tuoi stupidi paparazzi fuori o altro? Oppure cosa, Tadashi, mi darai una punizione? Oddio allora, questa tensione sessuale tra sti due però non l'ho capita. Cos'è sta cosa? Oh Axel, giù le zampe da Tadashi. C'è un po' troppa concorrenza in questo liceo? Porca zozza, noi siamo nelle cacchette in confronto. Cosa possiamo competere contro Axel? La mia vita è rovinata. Ah, sta scherzando. Un attimo l'ho preso sul serio e ho detto ma sei un po' una drama queen. No, è solo... Io ce lo vedo per la drama queen. Guarda lì che sopracciglio che ce l'ha. Non finirà bene. No, sta già andando male. Guarda qui, inutile idiota. Non si tratta di te. So che è difficile per te capire quando le cose non riguardano te, ma si tratta della scuola. Quei giornalisti sono nei terreni di una scuola privata e possono danneggiare gravemente la reputazione dell'Arlington. Però devo ammettere che Tadashi quando fa così, tranne l'inutile idiota che ho amato, sembra un po' che sia un po' troppo precisino, eh? Lo vorrei un ottimo smontare. Sì, ma sai perché fa così? Perché gli rompono il cazzo a lui. La preside va da lui. Ah, ok. Per rimproverare Tadashi. Quindi sostanzialmente potrebbe dire, oh, guarda che rompo i coglioni a me, quindi smettila di rompere le palle. Inoltre, stai sprecando il tempo di tutti che cercano di affrontare la tua merda quando avresti potuto affrontarli facilmente stamattina. Via, già giù, 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 giù. E infine, per aggiungere a tutte le cazzate che mi hai fatto passare, hai sentato più del 25% delle tue lezioni, la maggior parte ingiustificate, e quindi avresti dovuto presentarti all'ufficio di Lady Arlington mesi fa. Quindi, fammi un favore e vai al cancello principale, lascia che ti facciano quella stupida foto, e poi porta il tuo disgraziato culo nell'ufficio del preside. Oh, mi piace questo Tadashi! Stava cominciando a formarsi una piccola folla, la maggior parte entusiasta di vedere Axel. E noi invece diciamo, Tadashi, vai! Finchialo! Io ce lo vedo che lo prende per un orecchio, lo sbatte fuori dalla porta e gli dice, Tadashi una mosa, idiota! Lo chiudo la porta. Ho notato Raquel, Alistair e Carolina tra la folla che sembravano piuttosto preoccupati. Ma dai, Alistair, con quelle tue spalle larghe, mettiti in mezzo e tienili fermi. Esatto, noi possiamo vedere in un unico punto tre figli. Axel, che prima sembrava per lo più disinvolta, ora aveva uno sguardo penetrante sul suo viso. Dovrò negare la tua richiesta. Spero tu stiasche. Non mi interessa cosa volete voi o questa scuola. Tutta la mia fottuta vita riguarda l'affrontare la merda che i medi mi lanciano addosso. È un po' brutto da dire, Axel. Però dovresti avere un manager per questo. Primo. Secondo, è brutto anche da dire che fa parte del pacchetto. Per ora, visto che le persone non sanno ancora cos'è la privacy e non sanno cosa vuol dire lasciare in pace le persone anche se sono famose, tu sai che essere famosi comporta tutto ciò. Più che altro perché, cioè, adesso, Tadashi è sicuramente stato un po' brusco, però capisco che è stato brusco perché Axel si comporta così. Esatto. Il fatto è che, cioè, lui sta imponendo a tutti quanti all'interno della scuola, diciamo, i media. Perché i medi essendo lì, non vedendo Axel, magari si mettono a far foto a chiunque e iniziano a fare magari quelle teorie complottiste che sono andato tantissimo e mettono nei casini una persona che magari, tipo, non sta facendo niente. Sì, oppure fermano le persone. Uno deve uscire, rientrare, lo assaltano. Cioè, no, è quello. Il problema è che se Axel, tipo, li mandasse subito via e proprio direbbe, guardate, mi dispiace che ciò accada. Dovrebbe essere solo una cosa che riguarda me, ma sta influenzando anche voi, ma tento di risolverla il prima possibile. Le persone, poi, ad un certo punto, sono dalla tua parte. Sì. Se invece tutto ne sbatti. È tutto. E alla fine il problema principale non è neanche tuo, ma degli altri è quello. Cioè, capisco che la tua vita da quel lato fa schifo. Eh, eh. Però devi anche capire che gli altri non hanno scelto la tua vita. Esatto. Sei un po' te che te lo sei scelto. È brutto da dire perché nessuno si dovrebbe meritare una cosa del genere, perché è inumana. Però, finché non si risolve, finché le persone non cambiano, non puoi però farlo, imporlo agli altri. È quello. Non ascolterò un ragazzo arrogante che pensi essere importante solo perché ha vinto una presidenza del consiglio studentesco davvero prestigiosa. Ho letteralmente dormito quattro ore negli ultimi giorni perché, a differenza tua, sto facendo dei soldi veri grazie ai miei veri fan. Quindi ho un favore da chiederti. Lasciami solo. Non sei l'unica celebrità in questa scuola. Quando sei qui, sei lo stesso di ogni singolo studente qui. Esatto. Cioè, alla fine Axel ha scelto di andare a scuola lì. Uno perché, in teoria, magari, essendo appunto più suoi pari, magari riesci ad avere una vita più normale. Sì. E poi, cioè... Oppure anche sul fatto che l'accademia, essendo un'accademia più ricchi, potrebbe avere qualche sistema di sicurezza in più. Non mi interessa quanti fan hai o quanti soldi hai nel tuo conto in banca. Quindi, stai zitto e prenditi cura della tua merda. Ma mi piace perché è stata una conversazione nel suo insieme sensata. Sì. Cosa che in molti altri giochi vedevano delle conversazioni che andavano a parare nel nulla cosmico. Le urla di Axel e le Tadashi diventavano sempre più infuriate e gli insegnanti cominciavano a vedere la folla. Qualcuno doveva fare qualcosa prima di finirne i guai. Dall'altra parte della folla, Carolina sembrava aver percepito la mia intenzione e mi ha lanciato uno sguardo di avvertimento. Ma vuoi metterti tu in mezzo? Vediti in mezzo tu. Qualcuno faccia qualcosa. Non potete lasciare che si scannino sti due. No, ma lei ha paura di spettarsi le unghie. E allora non guardarci male, però, eh. Mi occuperò di lei più tardi. Per ora... Ho intenzione di dare un po' di buon senso a entrambi. Mi sono spinto verso il centro dove si trovavano Tadashi e Axel. Questo è ridicolo. Vi metterete nei guai a vicenda a causa di alcuni stupidi paparazzi. Tadashi, ci hai ovviamente stressato ed essere nella tua posizione fa schifo. Ma non c'è motivo di parlargli in quel modo. In realtà sì, perché lui si comporta di merda, però. Ricomponiti. Non sei l'unico che deve lavorare soda a causa del proprio lavoro. Sì, perché anche in effetti anche Tadashi ce l'ha scelto, comunque. Sei lui che sei candidato, quindi... Ho indicato Axel. Axel, che ti piaccia o no, queste persone sono qui grazie a te. Tadashi ha ragione. Quando sei a Darlington, sei uno studente come chiunque altro. È giusto che tu almeno cerchi di aiutarci. Quindi, per favore. Entrambi i ragazzi mi fissavano con gli occhi sbarrati. Penso che stessero discutendo mentalmente se dovessero ringraziarmi, o meno, o pianificare il mio omicidio. Beh, quindi... Invece che portarci a letto dovremmo guardarci le spalle. Ci rimane sempre Alistar. Abbiamo sempre... La migliore troppo di sempre è Enemies to Lovers. Ah, è vero, è vero. È sempre la migliore. Era tutto calcolato. Non è vero, ma era tutto calcolato. Ho sentito la folla fischiare contro il me per aver fermato il combattimento. La gente ha iniziato ad andarsene. Ma begli amici che siete. Andate un po' tutti a cagare. Avevo l'impressione che la folla avesse il nostro intento iniziale. Vedere due fighe che si picchiavano. Cioè, il classico tipo... Axel che prende Tadashi per la camicia e gli si sbottone e nessuno ha mai visto Tadashi sbottonato. Tipo, oh my god! E Axel no, era da Axel mezzo nudo di base. Quindi al massimo lo vedi più spettinato del solito. Bene, ragazzo nuovo. Hai sicuramente ragione su una cosa. Non vale certo la pena mettersi nei guai a causa dei paparazzi. Anche se potrebbe davvero rovinare il file di Tadashi. Ignorerò quell'ultimo commento e presumo che ti occuperai della situazione. Sfortunatamente, Tadashi, la tua ipotesi è sbagliata. Ha sventolato il cellulare davanti alla faccia di Tadashi. Il mio agente si occuperà della situazione. Si assicurerà che quegli doti non si facciano più vedere nel cortile della scuola. Era così difficile! Posso dire... Dirlo cinque minuti fa, porca boia! Tra parentesi, non poteva essere... Ma no, era così difficile farlo mesi fa. Ti dà anche da mangiare con un cucchiaino? No, ma potrebbe assicurarsi che non ti presenti più anche a scuola. Tadashi stava per perdere di nuovo la pazienza. Sono intervenuto prima che il combattimento potesse intensificarsi ulteriormente. Andiamo, Tadashi! Gli insegnanti stanno arrivando. Da questa parte! Oh merda! Quella è la signora Rodriguez! Ecco, corri, bello, corri! Bene, me la squaglio. Sono mesi che non consegno un incarico e non so se sarà felice con me. Tipico. Axel è sgattagliato fuori dalla folla così fortivamente che l'ho perso di vista nel giro di pochi secondi. Però devo ammettere che come ladro tipo l'occhi di gatto è bravo. Sì. Però non metterti la tutina di occhi di gatto perché non ti starebbe bene. Jeans di pelle aderenti ne possiamo parlare. Sì, ma la tutina con la attillata proprio no. Mentre la folla si disperdeva ho individuato Alistair e Raquel. Ma scusa, non è andato con Tadashi? No. Dio mio, che è, non capisci un cappero! Dio santissimo! Altro che voler pesci. Tu senti i meriti un pesce in faccia. Un pesce veramente, una trota! Tocca poi arriva Rosa col marito. Prende il marito per i piedi e te lo vede come mazza. Mi sorriseranno e mi erano con un'approvazione. Grazie, grazie. Lo so. Mi ha fatto per gli applausi, per la gloria, per essere espulsi al secondo giorno. Sì, esatto. La solita Tadashi torna nell'ufficio tipo, ok, come fare spellere Kanoir? Carolina tuttavia sembrava stesse cercando di uccidermi col suo sguardo. Beh Carolina, vedi, ti abbiamo dato un input per passare più tempo con Tadashi, dato che ora tenterà di ucciderci e collaborare con lui. Esatto. Quindi siamo proprio andati contro ogni nostro piano esistente su questa faccia della terra. Abbiamo cagato fuori. Abbiamo cagato fuori dal vaso pesantemente. Io non so perché, ma più guardo Carolina più ce la vedo con dei raggi laser che gli scondono gli occhi. Sono alla campanella e io rapidamente ho preso le mie cose e mi diresti verso la mia prossima lezione che c'eravano già dentro l'aula della prossima lezione ma abbiamo deciso di uscire per fare pagagna. Grazie a tutti.